Turno dai due volti in campo femminile. Dopo sei successi consecutivi nel campionato di B1, la Virtus Biella frena 3-1 sul campo del volley Garlasco. La sfida si conclude al quarto set a favore delle pavesi. Garlasco si porta avanti già al termine del primo periodo, chiuso con Biella ferma quota 21, e mette il successo in cassaforte dopo il primo cambio, 25-18. La Virtus esce con orgoglio dalle catene del match, getta le basi della rimonta, 18-25 nel terzo set, ma poi cede con 5 lunghezze di svantaggio nell'ultimo parziale. Tra le nerofucsia di coach Simone Marangio in doppia cifra sul tabellino finale, Matilde Gallina con 20 punti, Miriam Elagiam con 15 e Gaia Biondi con 11. Il K.O. del weekend riporta Biella al quarto posto in classifica, alle spalle delle torinesi di Parella, che riposavano, Castelfranco e Volpiano, che si sfidavano nello scontro diretto. Un peccato perché vincendo nel pavese la classifica sarebbe stata interessante. Nel prossimo turno Mariottini e compagnie torneranno protagonista al Palas Arselli di Chiavazza, appuntamento sabato alle 21 contro Genova. Tre passi importanti verso la salvezza. In Serie B2 il team volley espugna il campo di Alba con un prestigioso 3-0, dando continuità al successo ottenuto nello scontro diretto della scorsa settimana contro il Cusco Legno. Vittoria preziosa anche a livello di classifica, dato che le Langarole avevano ceduto il passo pure a Savigliano, diretta concorrente delle Lessonesi alla salvezza. Vittoria pesantissima questa perché giunta in trasferta su un campo difficile contro una squadra molto attrezzata, tendenzialmente arrabbiata, visto che arrivava dalla sconfitta nel derby con Savigliano. Noi ci aspettavamo di trovare una squadra che provasse a metterci sotto, su veramente un campo difficile. Ci tenevamo molto a fare bene, anche perché adesso avevamo svoltato in casa con le due vittorie consecutive con Vigerone Cus, ma sappiamo benissimo che la strada della salvezza passa per le partite in trasferta, quindi questa era la prima di cinque occasioni per sbloccarci e per provare a fare la differenza. Siamo riusciti a farlo al primo colpo, quindi siamo veramente molto contenti perché abbiamo fatto una partita di altissimo livello come probabilmente non avremmo mai fatto fino adesso dal punto di vista mentale. Tenuta psicologica rispetto all'avversario, nel momento difficile, nelle situazioni delle loro combinazioni d'attacco, nella tenuta della battuta con continuità, quindi molto molto bene. Ci portiamo a casa questi tre punti perché adesso la classifica dice che siamo a meno uno dalla salvezza, quindi dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, possibilmente ancora meglio per preparare la prossima partita con Rivarolo in casa.